L'assessore di Giovan Giacomo deve dimettersi e il sindaco Maurizio Brucchi deve chiedere scusa ai terramani per il disastro provocato dal sistema dei varchi elettronici. Lo chiede il consigliere comunale del PD, Manola Di Pasquale, all'indomani della conferma che i varchi, anche quando non erano attivi, hanno multato per ben 1.231 volte. Intanto io credo che sia giunto il momento che l'assessore di Giovan Giacomo, dopo il disastro dell'attivazione della zona ZTL, con il controllo elettronico e il taglio degli alberi davanti alla luce, di assegni le sue dimissioni e che il sindaco Brucchi chiede scusa ai cittadini terramani che sono stati definiti da circa 4 mesi come dei furbetti e persone che volevano marciare e che erano aditi a fare le violazioni del coce della strada perché così sono stati trattati i cittadini terramani. L'impianto non funziona bene, lo gridiamo oramai da 3 mesi, la segnaletica non è idonea, induce in errore i conducenti. Non a caso nei primi 4 mesi abbiamo elevato più di 15.000 contravvenzioni, di cui circa 2.000 per i varchi non attivi, ma ne abbiamo tanti altri riferiti ad errore e comunicazioni che riguardano i residenti, gli invalidi e una mancata conoscenza della nuova rilevazione elettronica dell'impianto, sul quale ovviamente, come sappiamo, stiamo preparando i ricorsi. La Di Pasquale avverte che tutte le contravvenzioni arrivate a casa dei terramani vanno impugnate e invita il sindaco Brucchi a non provare a scaricare le responsabilità solo sulla società che gestisce l'impianto, ossia la Project Automation, ma di attenersi a quanto il ministero aveva prescritto al comune di Teramo a marzo 2014. Ha detto che il ministero gli ha prescritto che nel momento in cui venivano attivate le telecamere, non prima, doveva avviare una fase di esercizio dove sui varchi dovevano essere presenti i vigili, proprio per controllare se il varco funzionava bene, funzionava bene tutto l'impianto elettronico che era stato montato e proprio perché bisognava dare istruzioni al cittadino. Lui non lo ha fatto. E sulla questione dei risarcimento, la Di Pasquale sostiene questo? Il comune deve rimborsare i terramani, ma i terramani devono sapere che le contravvenzioni devono essere impugnate perché se passano in giudicato, cioè se trascorrono più di 60 giorni dalla notifica della contravvenzione, non può essere più annullata la contravvenzione per disposizione di legge nazionale alla quale Brucchi non può far nulla.